Dove stiamo andando? Spinezzur! A vedere qualcosa di rosso, profondo rosso. La terra rossa. Di pelle rossa. Ok! Guarda, la strada è rossa. Eh sì che è la strada è rossa. Siamo nel deserto. Non lo so. È molto rosso. Domenico, Domenico! Molto bello, guarda! Ehi, ehi, ehi! C'è una cocirella, Sonia Corfo! Cocirella! Ma è fantastico questo posto! Ragazzi! C'è un lago! Il tempo ci serve! Zebbello... Erro d'unfa? Ma èelfino! Che erano le danni tra? Che erano le danni! Le d跟你? Le dioni tra i due, Le quelle cose aside한테? Voglio wisdomori! C'è un'anguette! C'è un'anguette! Le due, ma è un'anguette! guardiamo un posto all'antra è molto buono che fai? ciao ciao ma sei bellissimo con tutto questo rosso comunque questo posto mi piace proprio tanto tanto tutto rosso tanto rosso e che wow com'è questa cava? mi piace molto proprio bellino si davvero merito siamo qui 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 ed è tutto molto buono qui è ben stront e mi dai la mano mi sono avviati che la devi fare mi ha avviati prima valeria che scende il soccorso dai 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 ce l'ho fatta sì 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 scusa scusa no no è stata un'esperienza bellissima, andiamo a qua stanno i puss gruessi